La Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Abruzzo, su suggerimento della soprintendenza, ha emesso un provvedimento che riconosce l'edificio dell'ex auspizio marino di Giulianova come bene di interesse culturale. Questo significa che la struttura messa in vendita mesi fa dalla ASRI di Teramo è ora soggetta a vincoli di tutela ancora più stringenti, che ne impediscono la trasformazione in albergo complessi residenziali. La misura esclude dalla tutela i monofatti più recenti presenti nel cortile dell'ex auspizio risalenti a meno di 70 anni fa. Tuttavia, eventuali interventi su queste strutture richiederanno comunque autorizzazioni ministeriali, poiché si trovano in un'area vincolata. Di conseguenza, l'uso dell'ex auspizio marino non potrà essere alterato. L'edificio dovrà mantenere una destinazione sanitaria e potrebbe essere trasformato in una residenza per anziani. Fino a poco tempo fa l'edificio ospitava il distretto sanitario di base, ora trasferito nella residenza sanitaria di Bellocchio. L'ex auspizio marino è stato inserito nella lista dei beni in vendita dalla ASRI di Teramo e a seguito di una delibera regionale proposta dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì. Oltre all'ex auspizio marino, l'ASRI di Teramo, ricordiamo, ha messo in vendita anche l'ex ospedale in Via dello Splendore, inutilizzato dagli anni 70. I proventi della vendita di queste strutture saranno reinvestite nella manutenzione dell'ospedale di Via Gramsci, che necessita di interventi strutturali urgenti in linea con gli accordi tra la ASRI e il comune di Giulianova.